Premessa importantissima, questo video non è sponsorizzato da Start2Impact perché voglio raccontarvi genuinamente e nel dettaglio come funziona questa realtà nel mondo dell'education e mettere in condizione chi di voi sta pensando magari di intraprendere un percorso nel digitale perché ha terminato gli studi o vuole cambiare il suo telelavoro di valutare bene se i master di Start2Impact sono adatti alle vostre esigenze oppure no. Se dimenticherò di trattare qualche argomento che reputate importante scrivetemi nei commenti sotto a questo video e sarò felicissimo di rispondervi. Detto ciò partiamo subito con il dire cosa non è Start2Impact. Start2Impact non è un'università riconosciuta dallo Stato quindi al termine del master si riceve un certificato che però non ha alcun valore legale ai fini di un concorso pubblico per esempio. Per accedere ai corsi non è necessario avere un'esperienza pregressa nel mondo digital non serve una laurea, si svolge tutto online e senza alcun vincolo di orario. Ci sono diversi master tra cui poter scegliere come per esempio quello in sviluppo web, data science o blockchain. Io mi soffermerò in particolare sul master in digital marketing perché è quello che ho scelto, terminato e di cui quindi ho una maggiore cognizione di causa ma sappiate che tutti i corsi di Start2Impact funzionano allo stesso modo e aspetto importantissimo e non affatto scontato si può iniziare un master per poi cambiare indirizzo in corso d'opera. Se vi rendete conto che per esempio la data science non fa per voi e volete approcciarvi al mondo dello sviluppo web potete fare uno switch senza costi ulteriori oltre a quello dell'abbonamento che al momento in cui sto registrando questo video, marzo 2023 ha una durata annuale a un costo di circa 800 euro per il primo anno. Scendendo un po' più nel dettaglio il tratto distintivo di Start2Impact è il suo taglio molto orientato alla pratica infatti ogni corso prevede la realizzazione di diversi progetti pratici che nel caso del digital marketing per esempio attualmente sono 21 e sono composti da tre sezioni una sezione teorica un test a risposta multipla che deve essere completato con successo per affrontare il vero e proprio progetto pratico ora escludendo il test a risposta multipla di cui c'è poco da dire approfondiamo l'argomento sezione teorica e poi passiamo al progetto pratico e comincio con il dire qualcosa che sono sicuro potrebbe far storcere il naso a qualcuno di voi come sono sincero lo ha fatto storcere anche a me inizialmente Start2Impact non realizza internamente delle guide o dei contenuti originali ma esternalizza la parte teorica inserendo dei link a risorse che possono essere video su youtube o articoli di un blog presenti gratuitamente sul web e quindi uno potrebbe chiedersi ma per quale razza di motivo dovrei pagare per leggere o guardare contenuti di cui potrei fruire gratuitamente? domanda legittima che ci può stare ma che non tiene conto di due aspetti fondamentali il primo è che sebbene il web sia un'immensa miniera di informazioni su qualsiasi branca del sapere questo non significa automaticamente che senza conoscere la materia che si ha intenzione di approfondire si sia effettivamente in grado di distinguere i contenuti validi da quelli che invece validi non sono per niente e il secondo aspetto forse ancora più importante del primo è che nell'eventualità in cui si trovi effettivamente una risorsa che sembra valida ci sarebbe sempre il dubbio che la fonte non sia attendibile e nel mondo di oggi in cui chiunque con uno smartphone e una ring light può diventare un divulgatore e parlare di qualsiasi tema il rischio che si corre di confondere la notorietà e la fama con l'autorevolezza è davvero molto alto i contenuti nel digital hanno una vita brevissima diventano obsoleti nel giro di pochi mesi alcune cose che ho studiato mesi fa per esempio sono già state superate invece sono le giuste fonti quelle che valgono davvero quindi qual è il valore aggiunto di start to impact che giustifica un investimento economico è il risparmio enorme di tempo speso a cercare contenuti in giro per il web senza una vaga idea di cosa si stia cercando di preciso è la sicurezza che i contenuti inseriti nelle diverse guide secondo tra l'altro un percorso logico e delle introduzioni che ne facilitano la fruizione siano effettivamente validi e provengano da fonti a cui posso attingere continuamente per rimanere al passo con la materia o le materie che mi interessano di più e questa sicurezza da cosa deriva? deriva dal fatto che start to impact si affida a dei professionisti per selezionare i contenuti che oltre a insegnare una materia la mettono anche in pratica nel loro lavoro quotidianamente e parliamo di professionisti molto autorevoli che lavorano in realtà ad eccellenza nel settore del digital marketing italiano vi faccio giusto due esempi altrimenti questo video diventerebbe lunghissimo la guida di social media è curata da Marco Norato, founder e CEO di Marketing Espresso una media company che ha anche la missione di spiegare il marketing in modo semplice e utile e direi che ci riesce molto bene considerando che ha più di 200.000 follower su Instagram e quasi 100 su LinkedIn mentre per esempio quella per imparare a implementare campagne pubblicitarie su Facebook è stata realizzata da Simone Razza che è stato uno studente di start to impact e che adesso collabora con agenzie del calibro di Loop che è una delle agenzie di performance marketing tra le più importanti nel panorama italiano un aspetto però da considerare e che mi rendo conto possa non essere così banale è la necessaria conoscenza dell'inglese perché molte risorse, non posso negarlo, sono in inglese ma vi assicuro che non occorre essere madrelingua per affrontare le guide e una volta acquisito il lessico del digital marketing con tutte le sue sigle e i suoi acronimi che all'inizio magari possono spaventare si capisce tranquillamente tutto e in ogni caso quello che può sembrare uno scoglio può invece rappresentare un enorme vantaggio competitivo su chi deve attendere la traduzione in italiano di un contenuto interessante a start to impact basta cambiare un link e il gioco è fatto ma saper scegliere quale link cambiare e quando vi assicuro che richiede molta competenza e professionalità adesso passiamo alla parte del progetto pratico da fare una volta studiata la teoria e superato il test i professionisti che delineano il percorso teorico sono gli stessi che poi correggono i progetti dando dei feedback positivi o negativi ma super specifici e dettagliati pensati in funzione della costruzione di un portfolio di progetti pratici che permettono di emergere rispetto a magari tanti altri candidati che si presenteranno in sede di colloquio con un semplice curriculum quindi progetto dopo progetto alla fine si ottiene una visione a 360 gradi nel mio caso del digital marketing dopo essersi realmente sporcati le mani con questi progetti in cui si utilizzano i software e i tool scelti dai professionisti questo è il modo in cui sono strutturati i master di start to impact ma oltre gli aspetti tecnici e operativi ciò che fa davvero la differenza in start to impact secondo la mia esperienza diretta con questa realtà è la sensazione di, come posso dire di poter tradurre in maniera pratica e operativa delle soluzioni a problemi che possono sembrare enormi e impossibili da contrastare realizzando dei progetti pratici che sono in linea con i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'agenda ONU del 2030 quindi, per esempio, potreste ritrovarvi a scrivere un blog post ottimizzato in ottica SEO o costruire l'architettura di una campagna pubblicitaria su Facebook per aziende che operano nel settore della voda sostenibile e rendersi quindi conto che il proprio lavoro può fare concretamente la differenza e avere un impatto e questo fa tutta la differenza del mondo perché vi consente di entrare subito in sintonia con realtà lavorative di eccellenza in cui il lavoro, oltre ad essere qualcosa che si deve fare per pagare le bollette può diventare un mezzo per fare la propria parte nella realizzazione di progetti ambiziosi ed è proprio quello che è successo a me infatti dopo neanche una settimana dalla fine del master ho iniziato a collaborare come digital and content marketing specialist per Serenis una startup fighissima che si occupa di rendere accessibile il benessere mentale e che consente di ottenere un supporto psicologico online grazie a un innovativo algoritmo che seleziona lo psicoterapeuta più adatto alle esigenze del paziente ma se non mi si fosse presentata questa opportunità sarei stato comunque supportato dal career service di Start to Impact che tra le altre cose offre la possibilità di fare delle simulazioni di colloquio tecnico con professionisti come Federico Sbandi che ha lavorato in realtà come Google quindi tanta roba so che è stato un video abbastanza lungo ma ci tenevo a descrivere bene il funzionamento e la filosofia che sta alla base di questa bellissima realtà che è Start to Impact e che ho potuto vivere in prima persona per mettervi in condizione di valutare se è la scelta più giusta per voi se avete ancora qualche dubbio scrivetemi tranquillamente nei commenti seguitemi e contattatemi su LinkedIn iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi come sempre ci vediamo al prossimo video iscrivetevi al canale